Nell'ambito del progetto ambientiamoci ideato dal CIPA Consorcio Industriale Protezione Ambiente di Priolo, altre due scuole ospiti questa mattina. Questa volta è toccato alle scuole medie di Augusta, Todero e Corbino. Anche loro precedentemente hanno realizzato degli elaborati. Da questi lavori il CIPA ha realizzato pannelli di rivestimento per le centraline di monitoraggio degli agenti inquinanti di Siracusa, Augusta e Melilli. Togliere il grigio alla strada e dare colore catturando l'attenzione di chi passa. Questo è l'obiettivo del progetto. E dopo l'istituto comprensivo Brancati di Belvedere, questa volta con i pullman messi a disposizione delle CIPA sono stati trasferiti i piccoli dell'istituto Todero, Corbino e di Augusta, trasferiti presso i siti delle stazioni. Quindi un passaggio dal CIPA dove si è svolta una cerimonia di premiazione. Io ho deciso di rappresentare una vegetazione comunque molto ricca, che ho colorato con dei colori molto vivaci e poi ho rappresentato un animale, che è questa chiocciola, sempre dipinta colorata in un modo molto vario pinto, proprio per valorizzare quanto possa beneficiare l'ambiente e chi ci abita di un aspetto salutare, di un ambiente salutare. Sono più educati i giovani o gli adulti? Credo i giovani anche grazie all'aiuto che la scuola sta dando perché ormai con tutti questi interventi, le conferenze, il parlarne sempre comunque sia contribuisce molto.